Carissimi amici, in sintonia con la giornata mondiale della gioventù che si sta celebrando in queste ore a Rio de Janeiro, il cui tema è andate e fate discepoli tutti i popoli, anche noi vogliamo vivere e proporvi questa sera, dalle ore 21 alle 24, una esperienza di evangelizzazione nel web per diffondere e seminare nella rete semi di parola. Sulle vie del Vangelo 2013 la parola nel web è un'esperienza che vi proponiamo per essere degli evangelizzatori, per condividere con noi, per mettere in circolo tutto quello che sulle nostre pagine di Facebook proporremo, foto, testimonianze, preghiera, sollecitazioni attraverso la musica e i cantautori italiani, ricerca di Dio, annuncio di Dio. Vi aspettiamo questa sera sulla nostra pagina di Facebook Giovani Evangelo per condividere insieme una fortissima esperienza di grazia e di annuncio. A questa sera, dalle ore 21 alle ore 24, sulle vie del Vangelo, la parola nel web. Giovani Evangelo, vi aspettiamo!